Il comune di Paternò escluso dal bando Sport e Periferie 2020 con l'obiettivo di avere delucidazioni in merito sarà presentato un'interrogazione consigliare. I consiglieri comunali Anthony Di Stefano e Tuccio Paternò hanno presentato un'interrogazione consigliare in merito ai ritardi rispetto alla realizzazione delle tombe di famiglia. Un 33enne belpassese è rimasto illeso dopo un brutto incidente stradale avvenuto lunedì notte a Belpasso. Il giovane stamattina si è recato nella chiesa di San Paolo di Adrano per pregare davanti le reliquie di Carlo Acutis. Racconta che nell'incidente gli ha passato un ragazzo nel quale ha riconosciuto il volto del beato Acutis. In calo la curva epidemica in Italia, oltre 4.000 le nuove infezioni diminiscono attuali positivi ospedalizzati. In Sicilia 602 nuovi positivi ma anche oggi nell'isola è alto il numero dei guariti. Incendio ieri sera su una nave porta container all'imboccatura del porto di Catania. Il arrogo si è sviluppato all'interno di un container contenente fosforo giallo. Cordoglio a Biancavilla per la morte all'età di 60 anni di Carmelo Randazzo, ex consigliere ed assessore comunale. Con l'ultimo appuntamento a Palermo si è chiusa la rassegna per celebrare la figura dei cantastorie siciliani tramandandone la tradizione tra i protagonisti la più giovane cantastorie d'Italia, Orazio Fusto. Buonasera, ben trovati per questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con un servizio in arrivo da Paternò perché il comune è stato escluso dalla Bando Sport e Periferie 2020. Con l'obiettivo di avere delucidazioni in merito sarà presentata un'interrogazione consigliare. Vediamo. Così come pubblicato sul sito del governo Dipartimento per lo Sport, per quello che concerne il Bando Sport e Periferie 2020, il comune di Paternò che aveva partecipato al bando risulta essere stato escluso dal finanziamento così come è riportato nell'allegato B elenco delle richieste escluse a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa. A seguito di questa notizia, al fine di chiedere delucidazioni in merito al perché il comune sia stato escluso, sarà presentata un'interrogazione consigliare. Primo firmatario, il presidente della Commissione Sport, Alfredo Sciacca, insieme ai consiglieri Entoni Di Stefano, Agata Marciola, Martina Ardizzone, Tuccio Paternò e Claudia Flammia. Purtroppo apprendiamo con immensa amarezza, credo che sia l'amarezza di tutta la città, questa ennesima disfatta perché non ho altri oggettivi come poterlo chiamare, perdere un venenzamento così cospicuo perché certamente ci saranno dei motivi e per questo chiedo fortemente ai registi di questa vicenda di venire a fare luce. Noi certamente faremmo luce con un'interrogazione che sto portando in Consiglio Comunale con altri colleghi dove citeremo tutti gli uffici, l'amministrazione, cosa c'è stato che non è andato a buon fine, i comuni, c'è decine di comuni come Adrano, virtuosi che lavorano, sono stati finanziati. Paternò purtroppo ancora una volta dimostra la sua pochezza amministrativa in un momento così drammatico dove gli impianti sportivi ormai sono quasi tutti i fatiscenti e le società con mezzi miracoli riescono a poter fare attività sportiva. L'onodì proprio c'è un incontro con tutte le società e associazioni dove praticamente denunciano il fatto che non possono fare più attività a Paternò. Paternò non può permettersi di andare a perdere una fetta così importiva della società civile e sportiva, tutto non sta andando assolutamente bene, anzi dei cimiteri, allo sport, a tutto quello che vogliamo. Una sola cosa positiva purtroppo in questo momento utopico non si riesce a vedere. Denunciamo fortemente, noi scongiuriamo che questo possa accadere. Io non mai volevo essere qui a poter parlare di questo, ma purtroppo è impossibile perché la cronaca è quello che accade giornalmente, è quello che abbiamo visto, ci impedisce di tacere e di far finta di non vedere. A cosa sarebbe servito questo finanziamento? Chiaramente gli impianti sportivi di Paternò l'ambino in questo momento, però non è specifico, erano più destinati per l'impianto di Ortoduccio Bottino e tutti gli altri impianti come il palazzetto eccetera, c'è di fare degli accorgimenti di rifacimento e migliorie negli altri impianti, ma soprattutto nel Ortoduccio Bottino che in questo momento è quasi impraticabile. Restando sull'argomento, l'assessore ai lavori pubblici Luigi Gulisano ha dichiarato dopo l'uscita della graduatoria abbiamo subito interpellato gli uffici al fine di capire cosa sia successo in merito alla dicitura dell'esclusione del bando. Stiamo verificando tutto l'iter fatto dagli uffici, ha proseguito Gulisano, posso annunciarvi che dopo la verifica faremo di tutto anche con il ricorso al fine di poter portare il risultato a casa, anche perché ha concluso Gulisano così come riportato dalla graduatoria risultano esserci 13 pagine di comuni esclusi con la stessa dicitura e non posso pensare che così come afferma qualcuno siano tutti incapaci. E i consiglieri comunali, Antony Di Stefano e Tuccio Paternò hanno presentato un'interrogazione consigliare in merito ai ritardi rispetto alla realizzazione delle tombe di famiglia. Si aggiunge un nuovo giro di vite intorno alla questione dei 310 loculi presso il cimitero di via Balatelle che vede opposti da una parte i cittadini, che già nel 2018 pagarono in un'unica soluzione la somma di 7500 euro per l'acquisto di ogni singolo loculo, e dall'altra il comune che non ha ancora consegnato nulla perché non è stato ancora firmato l'accordo tra l'ente e la ditta appaltante. Ritardi su ritardi, in una rincorsa estenuante verso la firma definitiva che ha provocato e provoca l'amaro scoraggiamento di ben 270 cittadini che hanno pagato per un prodotto che non vedono ancora, con l'aggravante che alcuni di loro hanno nel frattempo subito dei lutti e perciò hanno dovuto provvedere al seppellimento dei loro cari in modo alternativo e provvisorio. Lo scorso lunedì cittadini coinvolti e stanchi avevano già dato un ultimatum, o la firma siglata entro la fine della prossima settimana o si darà il via a provvedimenti legali. E infine arriva un nuovo tassello alla vicenda con l'interrogazione consigliare a firma dei consiglieri di opposizione Tuccio Paternò e Dentoni Di Stefano che intendono mettere alle strette l'ente comunale affinché sciolga l'incresciosa faccenda. Considerato che l'incarico alla ditta appaltante sembrava già essere sul punto di essere siglato nei mesi di luglio-agosto scorsi, salvo poi vederlo slittare fino ad oggi, i consiglieri Paternò e Di Stefano chiedono di conoscere tempestivamente i motivi che ne hanno impedito l'attuazione, nonché quale possa essere la tempistica entro cui saranno consegnate effettivamente le tombe alle famiglie, al di là di un iter ufficiale che parla di due anni di lavori. Richiedono infine all'amministrazione formale risposta scritta all'interrogazione secondo i tempi previsti dal regolamento dei lavori consigliari. Un 33enne belpassese è rimasto illeso dopo un brutto incidente stradale avvenuto lunedì notte a Belpasso. Il giovane questa mattina si è recato nella chiesa di San Paolo ad Adrano per pregare davanti le reliquie dell'abbeato Carlo Acutis. Ai nostri microfoni racconta che nell'incidente gli è apparso un ragazzo che lo ha tirato fuori dalla macchina dopo ha riconosciuto in quel ragazzo il volto dell'abbeato Acutis. Vediamo. Siamo davanti alla chiesa di San Paolo ad Adrano che accoglie ancora le reliquie di Carlo Acutis, il ragazzo di 15 anni di Milano beatificato lo scorso 10 ottobre da Papa Francesco. Siamo qui per raccontare questa mattina una notizia incredibile. C'è stato un incidente lunedì scorso a Belpasso. Un ragazzo di 33 anni è rimasto miracolosamente illeso da questo incidente in cui la macchina è stata distrutta in pratica ma è lui stesso a raccontarci cosa è accaduto e collega questo episodio con Carlo Acutis. Antonino Leonardi, cos'è successo lunedì a Belpasso? Lunedì notte praticamente all'incirca alle 1.30 ho perso il controllo del veicolo non so un malore o qualcosa naturalmente che mi ha potuto fare perdere il controllo della macchina ho sbattuto contro un'altra macchina che si è capovolta la mia e rimanendo io illeso perché è molto emozionante naturalmente raccontarlo ho provato come se fosse una persona in realtà tarmi fuori dall'abitacolo perché comunque sono rimasto illeso, qualche ematoma, qualche trauma così ma dall'accaduto naturalmente anche i vigili del fuoco hanno detto che poteva andare anche peggio dall'immagine naturalmente che io mi ricordo era un ragazzo con il giubbotto nero alto, magro, capelli naturalmente mossi poi ieri naturalmente ho avuto... In sintesi c'è stato questo incidente tu avverti che qualcuno viene a tirarti fuori dalla macchina giusto? E non riesci però a identificare chi è questo qualcuno dopo cosa accade? Tutti i testimoni infatti mi dicono che in realtà sono sceso solo dalla macchina non c'è stata nessuna persona con il giubbotto nero anche i passanti che mi hanno dato soccorso non c'era nessuno subito poi naturalmente ieri un volontario di Carlo mi ha fatto conoscere che qui naturalmente ci sono le reliquie, non conoscendo completamente Carlo mi sono documentato chi fosse Carlo Tu fino a ieri non ne avevi mai visto, fino all'altro giorno non avevi mai visto il volto di Carlo quindi questo tuo amico ti dice ad Adano ci sono le reliquie? Di Carlo, un ragazzo che è morto a 15 anni però ho detto non so chi sia, non so naturalmente documentandomi su internet ho visto un video il diario di Papa Francesco da là ho estratto un frame dove si vedeva Carlo con il giubbotto nero praticamente proprio era era proprio lui quello che naturalmente quella sera mi ha dato a proprio aiuto perché ho preso proprio la risomiglianza di lui e stamattina sono stato qua a ringraziarlo perché sono qui naturalmente a raccontare tutto non sono terze persone che lo racconto ma sono io proprio Quindi tu vedendo per la prima volta il volto di Carlo Acutis su internet riconosci la persona che, insomma riconosci l'immagine che ti ha salvato che ti ha tirato fuori dalla macchina? Sì, proprio riconosci un fatto proprio l'identichitta proprio che era lui e non, infatti tutte le persone anche chi mi ha dato soccorso mi hanno detto dice se io sono solo dalla macchina non c'è stato nessuno che ma in realtà dentro di me infatti c'è stato veramente un angelo veramente che mi ha tirato fuori dalla macchina non ho dire grazie soltanto al signore, a Carlo perché naturalmente quella sera mi è stato molto vicino mi ha dato anche un aiuto mi sono rimasto anche miracolato, se si può dire così perché naturalmente potevo andare anche a finire peggio da referti medici e quant'altro non ho avuto nessuna frattura o altro a parte un ematoma al braccio, un trauma facciale non hai voluto quella sera l'intervento del 118 perché dici sto bene, non c'è bisogno i vigili del fuoco sono venuti, sono venuti i carabinieri hanno fatto rilievi e tutto quanto il 118 l'ho declinato io perché comunque subito dopo sono andato al pronto soccorso quindi tu dici io sono vivo oggi grazie a Carlo Cutis e sei venuto qui ad Adano per ringraziarlo sì, grazie a Carlo io oggi sono qui a raccontare questo Rosa Maria Pappalardi è la mamma di Antonino signora lei cosa dice di questa storia? è una storia che mi ha commosso tanto perché mio figlio la prima cosa che mi ha detto quando mi ha chiamato quella sera mi ha detto che aveva avuto questo incidente però che lui era stato tirato fuori da un ragazzo col giubbotto nero e non ho parole perché mio figlio proprio non conosceva questo ragazzo a Carlo non lo conosceva completamente lei invece lo conosceva a Carlo Cutis? l'ho visto un paio di volte ma sempre dove è messo esposto non so che a volte mi appare ci metto o mi piace o il cuoricino però suo figlio ha parlato ha detto miracolosamente sono vivo miracolosamente e dice no sono è lui dice mamma che mi ha tirato fuori perché lui quando è andato a sfogliare tutte le cose di Carlo che ha visto dice mamma è lui ma sempre le dico io non l'ha visto lui questa immagine che appena lui appena mi ha chiamato mi ha detto mamma sono vivo per miracolo e mi ha tirato un ragazzo col giubbotto nero questa parola proprio me la sono proprio segnalata lui appena ha visto per la prima volta Carlo Cutis ha detto è lui che mi ha tirato fuori è lui mamma che mi ha tirato fuori stamattina siete venuti qui ad Adrano per ringraziarlo siamo venuti qua per ringraziarlo e penso che andremo anche ad Assisi è stato un momento toccante stamattina ad Adrano tantissimo avete sentito l'esigenza di venire qui sì perché mio figlio mi ha detto mamma domani mattino andiamo che ci sono le reliquie ho detto sì andiamo per ringraziare grazie e adesso parliamo di covid in calo la curva epidemica in Italia a oltre 4.000 le nuove infezioni diminuiscono gli attuali positivi e gli ospedalizzati in Sicilia 602 i nuovi positivi ma anche oggi nell'isola è alto il numero dei guariti vediamo in calo la curva epidemica in Italia i nuovi contagi da covid sono 4.552 su oltre 284.000 tamponi processati con un'incidenza dell'1.6% in linea con quella degli altri giorni 66 decessi i guariti sono stati 6.549 e dunque gli attuali positivi c'è coloro che attualmente sono alle prese col virus sono in tutto poco più di 114.000 in decremento di oltre 2.000 unità buone nuove anche dal sistema sanitario in terapia intensiva nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite ci sono 6 malati gravi in meno per un totale di 525 malati intubati mentre in area medica i posti letto in meno sono 29 per un totale di 3.989 ricoverati con i sindomi tipici dell'infezione la Sicilia resta la regione con più casi giornalieri ma le nuove infezioni diminuiscono rispetto ieri 602 quelle di oggi al netto di quasi 19.000 tamponi processati con un tasso di positività crescente al 3.2% 16 decessi nell'isola risalenti ai giorni precedenti oltre 1.500 negativizzati all'infezione e dunque gli attuali positivi diminuiscono di quasi un migliaio per un totale di 21.777 stabili ricoveri in ospedale e rianimazione 99 pazienti intubati stesso dato di ieri in area medica sono 696 posti letto occupati 1 in meno di ieri ad Adrano leggero decremento degli attuali positivi sono 48 gli attuali contagi 6 in meno di ieri e nessuno di questi necessita di cure ospedaliere 81 gli attuali positivi a paternò di cui 3 ospedalizzati mentre sono 186 i soggetti in isolamento domiciliare Adesso la pagina di cronaca incendio ieri sera su una nave portacontainer all'imboccatura dell'apporto di Catania il arrogo si è sviluppato all'interno di un container contenente fosfero giallo Ieri sera intorno alle ore 21 su richiesta della capitaneria di porto il personale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania con sezione navale e il nucleo sommozzatori sono intervenuti per un incendio sviluppatosi su una nave cargo battente bandiera liberiana che si trovava all'imboccatura del porto l'incendio si è sviluppato all'interno di un container contenente fosfero giallo le squadre dei vigili del fuoco con il nucleo NBCR ovvero nucleare, biologico, radiologico e chimico sono salite a bordo della nave hanno lavorato al fine di riuscire a raffreddare il container e verificare, mediante l'utilizzo della termocamera, che all'interno la temperatura si fosse abbassata al di sotto di quella a rischio il cordoglio a Biancavilla per la morte all'età di 60 anni di Carmelo Randazzo ex consigliere ed assessore comunale persona stimata ed apprezzata per le sue doti umane e professionali era direttore amministrativo all'istituto tecnico-economico russo di Paternò grande cordoglio a Biancavilla è morto nella notte all'età di 60 anni dopo una malattia Carmelo Randazzo personaggio stimato e molto noto in città per avere ricoperto cariche politiche tra gli anni 80 e 90 ha militato nella democrazia cristiana e poi nel Partito Popolare ed è stato per lungo tempo consigliere ed assessore comunale fu anche vice sindaco di Pietro Manna che oggi lo ricorda con un toccante post su Facebook sei stato il mio amico di sempre per sempre scrive Manna siamo stati vicini in tante vicissitudini delle nostre esperienze politiche e non ho potuto apprezzare la tua lealtà la tua onestà la voglia di metterti sempre al servizio degli altri la tua serenità nell'affrontare i problemi in politica come nella vita è difficile trovare degli amici tu lo sei stato anche quando la mia stella è tramontata nell'orizzonte della nostra Biancavilla sui social anche il cordoglio del sindaco Antonio Bonanno grazie alla sua esperienza di amministratore non mi ha mai fatto mancare consigli e suggerimenti sempre improntati alla saggezza la città perde un figlio degnissimo dice Bonanno che ha dimostrato grande dignità anche nell'affrontare la malattia Carmelo Randazzo è una persona molto stimata anche ad Adrano due anni fa ha lavorato come direttore amministrativo alla Scuola Media Mazzini di Adrano accanto alla reggente Loredana Lorena che ha accolto con sgomento la notizia del decesso di Carmelo Randazzo era una persona meravigliosa dice la preside Adranita sia sotto il profilo umano che professionale Carmelo Randazzo ha lasciato in noi un ricordo splendido come era splendida la sua persona i funerali di Carmelo Randazzo verranno celebrati domani alle 15.30 nella Chiesa Madre di Biancavilla Amore contro è questo il titolo della serata evento che si sarebbe dovuta tenere lo scorso 5 settembre ma che a causa del maltempo è stata posticipata e si terrà questa domenica alle ore 21 nello spiazzo antistante al santuario della Madonna della Consolazione Amore contro l'inciviltà Amore contro il degrado sociale Amore contro l'arroganza Con l'ultimo appuntamento a Palermo si è chiusa la rassegna per celebrare la figura dei cantastorie siciliani tramandandone la tradizione tra i protagonisti la più giovane cantastorie d'Italia il paternese Orazio Fusto vediamo la tradizione siciliana l'antica arte di Cuntu dei cantastorie per non dimenticare le proprie radici e le proprie origini con l'ultimo appuntamento tenutosi a Palazzo Riso a Palermo si è concluso il tour organizzato dal Museo d'Arte Contemporanea della Sicilia dall'assessorato regionale ai beni culturali dell'identità siciliana le associazioni DA e CRICID con la collaborazione dei comuni di Paternò a Cisant'Antonio Terrasini e Bagheria denominato Carretto icona dell'identità siciliana l'evento è rientrato nell'ambito della rassegna settembre all'arriso con l'evento conclusivo della manifestazione partita a luglio da Terrasini tra i protagonisti dei diversi appuntamenti anche i cantastorie paternesi Orazio Fusto e Cettina Busacca Orazio Fusto 17 anni la più giovane cantastorie d'Italia ha preso parte anche l'evento conclusivo a Palermo con un'esibizione molto apprezzata dal pubblico per l'aeroporto era un gran disagio perché dava sempre impedimento ad ogni rinfasi d'atterraggio e la regione fu di la mafiosata e affari in autoapista fu ammottata Molenazzo si chiamava la congiata che per la terza pista fu colpita Presenti anche Franco Chipinti presidente dell'Associazione Culturale Gli Ultimi Cantastorie di Ragusa Carlo Muratori cantautore ricercatore e il cantastorie catanese Alfio Patti a tutti loro la consegna della testimone di riuscire nel non facile obiettivo di tramandare ai posteri un pezzo della tradizione siciliana ed era questo il nostro ultimo servizio si chiude questo spazio con le informazioni di Chuck Telesud io vi auguro una buona serata e una buon fine settimana grazie a tutti Grazie a tutti.